Vi ha indirizzato che non è un binario morto, perché voi lo fate molto bene, ve lo dico sinceramente, fate un ottimo lavoro. Però se non avete scelto voi spontaneamente questo mestiere, è meglio lasciar stare. D'accordo, va bene, ora parlo, che modi? Sì, voglio di parlare, ora... Ti ascolto? E se la finissimo, se lasciassimo perdere tutto, voi e io, se facessimo il patto dell'amore, il patto della fraternità?